Pre-Live Centro Revisioni Florio Calandra Buonasera, ben trovati a Fil Rouge TV. Per questa edizione di Protagonisti stasera ospite studio c'è Giovanna Ferrara, Giovanna Pia Ferrara, musicista. Grazie Giovanna Pia per essere con noi stasera. Buonasera a tutti e grazie. E allora, la sigla e poi cominciamo con Protagonisti, persone e personaggi della nostra isola. Eccoci in studio con Giovanna Pia Ferrara. Allora, presentiamola. Giovanna Pia Ferrara, musicista, tanta preparazione, tanto studio dietro questa ragazza così leggiadra dai lunghi capelli rossi. Allora, vediamo un poco. Tu sei laureata? Io sono laureata in lettere e filosofie e in dirizzo disciplina della musica presso l'Università di Palermo. Inoltre, sono maestro in violino. Sono diplomata al vecchio ordinamento presso appunto il Conservatorio Alessandro Scarlazzi di Palermo e inoltre ho conseguito l'alaria bennale in didattica della musica e direzione corale presso lo stesso Conservatorio Alessandro Scarlazzi di Palermo. Quindi una preparazione accademica di alto livello a tutto tondo perché hai studiato lettere, hai studiato spettacoli, hai studiato soprattutto la musica. Quindi hai una visione abbastanza ampia di che cosa è la musica. Ecco, che cosa rappresenta la musica per te nella tua vita? Qual è il senso della musica nella tua vita e quello che secondo te è invece per la vita delle persone? La musica per me è il respiro e il battito del cuore. La vivi, la senti nella tua anima. Quindi io la vivo in ogni cosa che vedo e che sento. La musica io la vivo quando prendo il mio bambino in braccio oppure quando guardo negli occhi il mio marito. La musica per gli altri potrebbe essere anche l'amore che si prova a vicenda per il proprio fratello oppure per una grande notizia quale è appunto una rinascita, un superamento di una malattia oppure un superamento di un esame all'università. Questa è musica. Quindi la musica è gaudio, tripudio, armonia. Possiamo dire così? Sì, 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 sì. Allora, Giovanna Pia, tu hai partecipato ad un concorso per presentare delle musiche. Spiegaci tu. Allora, giorno 6 luglio appunto l'associazione culturale Brancacce Musica della quale io sono il presidente è in Stati Generali delle Donne, nel quale il presidente è la dottoressa Isamaggi. I Stati Generali delle Donne parteciperanno con il progetto Woman Business Act alla fiera internazionale di Expo Dubai 2020. Che non si è svolta l'anno scorso, ma si svolgerà quest'anno a Dubai. Dopo Expo Milano ci sarà quella di Dubai. E quindi voi andrete con la colonna sonora appunto che è stata scritta e ideata da me, composta da me, dove appunto l'associazione Stati Generali delle Donne ha scelto come simbolo di rinascita. Con questo convegno che appunto si terrà il 6 luglio presso i locali della ex fonderia Euretea, alle 16.30 si celebrerà appunto la rinascita di una donna. E appunto a questo pezzo io ho voluto associare un soggetto e un video dove non ci sarà soltanto la rinascita di una donna, la storia di una rinascita, ma anche l'esaltazione della bellezza della nostra Sicilia. Quindi anche una rinascita artistica, una rinascita economica. Ecco, quello che si vuole vincere è appunto che la donna è artetice di questa rinascita. Eh sì, noi donne in fondo siamo, intorno a noi ruotano molte cose, diciamolo pure, insomma anche per buona parte la famiglia. Noi donne siamo madri, siamo mogli, insomma un po' la casa la controlliamo noi, quindi alla fine se c'è voglia veramente di trasmettere fiducia a futuro ed emozioni è un po' compito nostro. Ma torniamo al brano che tu hai presentato per l'Expo. Ci puoi anticipare qualcosa? Che tipo di musica è? Allora, intanto il titolo del brano è Meridiem. Meridiem è una parola latina che significa bagliore. Qui torna la laureata in lettere. Appunto questo pezzo è stato composto con gli arrangiamenti che è stato composto da me ed è stato anche registrato con la sala registrazione di Piero Sala Air Music. Ci sono appunto dei violini che ti riportano a un'era arcaica e ti fanno appunto pensare a questa freschezza, al vento, al mare. Meridiem appunto è la rinascita di una persona nella sua parte mentale e fisica. Io ho concepito il pezzo appunto con questo obiettivo, una rinascita che per me appunto narra la storia di una donna che supera la sua insicurezza e affronta questa audizione al teatro. Per un'altra persona può essere appunto una rinascita economica, appunto l'acquisto di una casa, oppure l'avanzamento nel lavoro e anche l'uscita dalla pandemia stessa. Quindi ha una valenza in più significati Meridiem. Certo, è sempre un affacciarsi di nuovo alla pienezza della vita e a tutti i doni che la vita ci offre e che comunque dobbiamo sempre essere in grado di sapere cogliere e riconoscere. Quindi tu fai parte anche dell'associazione Brancaccio Musica hai detto? Sì, sì, l'associazione culturale Brancaccio Musica è stata fondata nel 2013 appunto con l'obiettivo di divulgare attività. E che cosa fate? Esatto. A Brancaccio che è per antonomasia una zona un po' difficile, che ha bisogno del contributo di molti perché ci possano essere appunto arti, musiche, tutte quelle cose che sono importantissime per vivere bene con senso civico, con intelligenza, con sensibilità. E cosa fate quindi voi lì? Esattamente, appunto ci sono tante realtà che operano nel quartiere Brancaccio perché sappiamo benissimo che ha i suoi problemi il quartiere, però con l'attività di tutte queste persone, con queste associazioni, tra le quali anche la nostra, della quale io sono il presidente, e appunto noi divulghiamo attività culturali, musicali e artistiche appunto con un messaggio di coesione e fratellanza. Fate concerti, avete utilizzato delle sale? Eh sì, 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 ci associamo appunto a dei locali facendo anche richieste al comune, all'assessorato. Adesso abbiamo in progetto una mostra collettiva appunto con il maestro Mauri Lucchese che si terrà appunto a settembre assieme appunto alla settimana delle culture. Quindi è un evento organizzato in collaborazione alla settimana delle culture. Allora, adesso una breve pausa pubblicitaria e poi ritorniamo in studio con la musicista Giovanna Pia Ferrara. Allora, adesso una breve pausa pubblicitaria. Bologna SRL, leader a Palermo nel settore del materiale elettrico civile ed industriale, è lieta di comunicarvi l'apertura del nuovo punto vendita Accademia Centro Illuminotecnica. Da noi troverete i migliori marchi dell'illuminazione tecnica e decorativa, reparto caldaie, climatizzatori ed energie rinnovabili. Vi aspettiamo a Palermo in Viale Regione Siciliana Nord-Ovest 3422. Accademia, diamo luce ai vostri sogni. Accademia, diamo luce ai vostri sogni. ciao ragazzi ebbene sì anch'io parteciperò a tutti in cucina un programma non per veri chef ma per tutti vi aspetto su fil rouge chef direttanti chef professionisti sarà un gruppo eterogeneo di non chef professionali anche perché io non so cucinare ogni giorno da lunedì 17 maggio alle 11 e 30 su fil rouge tv ma non vedo l'ora tutti in cucina una rubrica dedicata a chi come me ama cucinare io sono la prova che chiunque può imparare a cucinare mettete i vostri like e vi aspettiamo in una bellissima nuova cucina ci vediamo tutti i giorni a tutti in cucina su fil rouge rieccoci a questa puntata di protagonisti persone e personaggi della nostra isola con ospite in studio qui a fil rouge tv giovanna pia ferrara maestro di musica e allora una domanda tu durante la giornata che musica ascolti allora io appunto ascolto di tutto e di più dal maestro di violino magari poi ascolta l'hard rock sì sì è capitato anche l'immi metal insomma io a me piace soprattutto la chill out disco anni 70 la musica italiana la musica folk la musica classica soprattutto le arie d'opera e anche la musica per bambini c'è pure quella anche ai cantautori italiani che hanno fatto la storia la discoteca la musica house io sono un tutto sono un tutto e di più apprezzi tutta la musica tutta la musica in generale a fare distinzione di genere di stile di tipo ma c'è un fil rouge ecco che lega le musiche che ti piacciono qualche caratteristica comune che hanno tutte queste musiche che tu ascolti la particolarità mi colpisce quella appunto quella ciliegina quella pietra miliare che unisce tutti questi pezzi perché ogni pezzo come ogni persona ha un qualcosa in particolare che un altro non appunto io ascolto musica di diverso genere perché ogni musica un messaggio è un qualcosa di particolare come noi appunto la musica questo è un tema che qualcuno anche approfondito soprattutto voi musicisti la musica anche un linguaggio preciso la musica comunica i sentimenti esprime i sentimenti anche il pensiero ci sono le musiche dinamiche le musiche che ti fanno venir voglia di ballare le musiche che ti vogliono far stare seduta la musica che rievoca ampi spazi naturali la musica che ti fa pensare a un altro buio infatti in ogni luogo dove una persona per esempio durante un massaggio rilassante la musica sarà una di paus una musica chill out perché ci sono delle abbrazioni che ci arriva sotto è stato infatti il mio pezzo meridem è stato concepito con una tonalità in particolare per fare stare bene la persona che la ascolta e appunto entrare in quest'era ancestrale perché appunto noi mentre ascoltiamo la musica entriamo dentro il nostro universo ecco appunto meridem è stato concepito per questo per fare stare bene a me stessa c'è una grande coreografa americana che ha detto quando la gente va via dopo avere visto i miei spettacoli voglio che pensi che le cose si possano fare esatto quindi il comunicare agli altri di avere delle potenzialità e di avere possibilità quindi di fare tutto quello che si desidera è importantissimo infatti la musica un mezzo di comunicazione molto potente guardiamoci quindi da quelli che ci vogliono scoraggiare e nella vita a parere le nostre ali e nella vita sempre diciamo ci sono queste situazioni che possono appunto tappare il nostro percorso però dobbiamo avere noi sempre quella luce con la sicurezza di andare avanti e appunto di sperare in un futuro migliore non farci mai prendere dalla paura esatto quindi le tue musiche sono la musica è bella tutta tu sei anche maestra di coro sì sì io quindi hai studiato canto studiato canto e direzione corale appunto sono laureata in direzione corale e la tua che voce è? io sono un soprano quindi canti da soprano e canti aree e opere di opera io sono appunto un soprano canto in un coro cantavo nei cori adesso io sono solo direttore di coro e appunto aiuto le mie allieve nel gestire appunto ho fatto tutta quella tecnica del diaframma del respiro per poter cantare bene ecco dirigo il coro della chiesa a Brancaccio San Gaetano dal 2010 sono direttore di coro e inoltre appunto sono anche direttore di coro della corale Teotocos che ho fondato appunto nel 2014 e questa corale era formata prima da uomini e donne e ora solo da donne e ci sono molte persone che amano cantare nei cori è una bella iniziativa, è bello che sia diffuso questo decideio di utilizzare il primo degli strumenti musicali che troviamo in natura chiaramente la voce esatto, infatti io dico sempre alle mie allieve che ogni persona ha un dono e un dono che Dio ci ha dato è della voce la voce non esiste una persona che non sa cantare deve essere solo educata, si deve solo educare ed esercitare perché tutti abbiamo questo dono quindi perché non lo dobbiamo usare? assolutamente sì, ringraziamo Giovanna Pia Ferrara per essere stata con noi e per averci anche insegnato qualche cosa di nuovo abbiamo riflettuto anche sull'importantissimo significato della musica il 6 luglio appuntamento nei locali dell'ex fonderia Auretea per vedere, per sentire e vedere anche il video di questo brano musicale che andrà a Expo 2020 a Dubai grazie a voi e grazie agli spettatori di Fil Rouge TV buona serata grazie a tutti